E what's up a tutti ciurme e benvenuti raggio green in questo nuovissimo episodio su Life is Strange True Colors Vi ricordo ragazzi il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like So che ci possiamo riuscire ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto E quindi che dire, la volta scorsa sono successe un paio di cose super tenere Abbiamo aiutato Daki comunque a superare la sua tristezza e Ryan insomma ragazzi Cioè diciamo mezzo confessate il fatto che appunto gli piacciamo e alla fine insomma si sono ciucciati Quindi si sono baciati e la cosa è finita così quindi sembrava tutto bello, tutta rosa e fiori, bello di qua, bello di là Però a quanto pare ragazzi Pyke ci ha portati in centrale perché? Perché Alex gli aveva detto di avere delle prove sulla Typhon Però adesso vedremo a cosa stiamo andando incontro Infatti eccoci qua Ma sì dai perché no Perchè? Come avevamo immaginato ragazzi Ma c'è era chiaro che lei avrebbe fatto più o meno 2 più 2 perché se tu arrivi in un posto C'hai un oggetto e poi guarda caso Uno te distrae, fa roba del genere e la chiavetta te sparisce Immagini che sia stata quella persona Il problema è che se non hai prove, cioè accusare così a caso però Cioè che scusa? E questa ragazzi c'ho la rottura dei palle che comunque per quanto magari uno sappia che su un oggetto ci sono prove eh Quello è un oggetto di proprietà privata ragazzi se non è soggetto a indagine quindi non hai un mandato da un giudice Non hai potere su quella roba lì Ovviamente noi adesso ragazzi comunque ci batteremo per la questione di Gabe eccetera però Si tratta di legge capite che vi voglio dire Quindi è un'ingiustizia, è una merda Però proprio a livello legale è così che funziona Io direi devi ma Ah Tu stai conducting un'investigazione in Typhon, right? Tutti che hai chiesto è sull'attività È sull'attività Dessite le miei eserci, il caso è fermato Il order fu fuori oggi Ho fatto quello che poteva, ma la evidenza non è n'era Scusa, Alex Eh, c'è lui io le prove. Cioè, raga, è che io mi sento combattuta comunque, perché mi rendo conto di che significa, cioè, da un punto di vista legale, però da un punto di vista affettivo te fa fotte, chiaramente, quindi non dovrebbe importare, però. Non dovrebbe importare come ho ricevuto. Magari non, ma lo fa. Alex, non pensi questo chiaramente. Si sembra abbastanza chiaro per me. Diane vuole trattarti con la scuola di computer. È un crimine federale, Alex. 5-10, facile. Mamma mia. Eh, cioè, raga, è un reato. Da un punto di vista legale, purtroppo lo è, cazzarola. Però fa un culo a Diane. Dianne. You know what? Fuck Diane. This isn't justice. This is a joke. It's not that bad. I talked to her. And despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhoon won't press any charges. Ovviamente, se vogliono parare il culo alla grandissima, ragazzi. Cioè, in questo modo ce l'hanno anche in pugno, tra l'altro, per assurdo. Perché dicono, guarda, tu hai fatto st'errore? Perché purtroppo quello che ha fatto, ragazzi, legalmente parlando, è un errore. E quindi loro adesso, se prendono l'occasione per poterle dire, guarda, facciamo finta di niente per quell'errore, però mi devi firmare una dichiarazione in cui la pianti di accusare la Typhoon. Con i je... È veramente una situazione di merda, quindi... Non significa che è colpevole. Quello è il problema, porca miseria. No. 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 Typhoon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Like I said, it doesn't matter. Alex, please, just sign the form and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. What are you so scared of? See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Analizziamo la sua paura, ragazzi. Perché? Ha così paura? Alex, please. I don't want you to get hurt. Then help me, damn it. Ci vuole proteggere, ma perché? Praticamente, Dipartimento di Sicurezza della Typhoon Mining, ragazzi. Praticamente, questi, ci hanno sorvegliati. Ok? Dopo che è successo tutto, se sono sentiti minacciati chiaramente, ed hanno sorvegliato ognuno, di noi. Questi siamo noi, chiaramente, avversione verso la Typhoon. Il fratello Gabe Chen è morto in un incidente collegato ad una detonazione alla Typhoon. Il soggetto ha dimostrato di avere una forte determinazione ed efficaci. Sentimenti negativi sono persistiti ben oltre il periodo del lutto abituale. Inoltre, sembra che il soggetto sia in possesso di informazioni e dati riservati. Priorità della minaccia 1. Necessaria azione immediata. Non so se ci rendiamo conto, ragazzi. Ci hanno osservati per più di 20 giorni. Ha parlato con un nome identificato come Ryan Lugan e su un'altra informazione rilevante. Ha passato tre ore nel suo appartamento. Cioè, regà, hanno praticamente visto pure quante volte siamo andati a accesso, ok? Pure questa, comunque, violazione della privacy. Cioè, in base a cosa te me puoi star sorveglià. E qui, ragazzi, appunto, hanno sorvegliato anche Ryan, chiaramente. Aiuta Alexandra e la sua campagna contro la Typhon. Azione immediata pure qua, ragazzi. Priorità 1. Cioè, è grave proprio tutta sta cosa. Ovviamente, hanno sorvegliato anche Steph. Aiuta Alexandra e la sua campagna a dimostrare di essere molto ingegnosa e pericolosa. Priorità minaccia 2. Azione immediata pure in questo caso. Quindi, cioè, è greve proprio. È greve proprio la situazione. What did you expect? Huh? The Typhon, a global organization with billions in revenue and army of lawyers and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say you got us. Pensavo di poter ottenere giustizia, almeno. I thought I could get justice for Gabe. Yeah, well, Typhon has their own idea of justice. shit. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. I've learned the hard way that it's not possible. They're too big, too connected, too ruthless. You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. but it's not just about me. Steph and Ryan are in danger, too. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? pure this, affidavit della Typhon e quindi ti arrendi, lasci perdere tutto, lasci che comunque la morte di Gabe rimanga così, però sei al sicuro tu e sono al sicuro i tuoi amici. Però, cioè, a questo punto delle cose, io rischierei. Cioè, questi, cioè, per colpa di questi e dei loro loschi e giri per nascondere chissà cosa, questi hanno ammazzato mio fratello, regà, e comunque noi non abbiamo il diritto di decidere per Steph e Ryan che magari l'affidavit lo brucierebbero, lo strapperebbero probabilmente, quindi non abbiamo il diritto di decidere per loro numero uno e numero due questi hanno ammazzato mio fratello, ragazzi, e la dovrebbero passare liscia solo perché perché è un'azienda milionaria, c'ha i soldi, c'ha gli avvocati. No, rischio e assorbo la paura di Pike. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck, 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 just keep your head down, don't you? You're just a shit here. Typhon's major league. Typhon doesn't lose. Typhon disappears, people. Let them get killed, not you. I know you're afraid. I am too. I know you think that Typhon is too big, too invincible, but they're not. I will bring them down. I just need your help. follow per Gabe. If not for me, then for Gabe. Please. Fuck. I'll think about it. Thank you. Get the hell out of here. Really? Alex, be careful. che tenero. Comunque, chiaramente lui era spaventato anche per se stesso, perché appunto, cioè quelli della Typhon fanno sparire le persone, le uccidono, no? Quindi ha pensato anche a sé, però è stato super tenero perché comunque aveva a cuore l'incolumità di Alex, di Ryan, di Steph, comunque c'è dei ragazzi, quindi è stato veramente tenerissimo. Cos'è? Passa a trovarmi quando puoi, Jed. Se porti le tue bottiglie c'è una tassa da pagare. What? Ah, oddio, è la cosa del foglio. Infatti non capivo. sta ritornando sulla paura che ha assorbito a pagare chiaramente. che ha assorbito Quindi, intanto cambiamoci gli abiti e poi vediamo cosa fare. Perfetto, adesso sì che siamo più comodi. Non ci resta quindi ragazzi che andare da Jed, chiaramente. Quindi scendiamo, vediamo cosa vorrà Jed da noi. Quanto pareci. And then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Come pensi di aiutarmi Jed, scusa? Fuck it. What have I got to lose? Intanto direi di farci una bevuta, visto che ci stiamo. E grazie. Chiaramente a questo punto delle cose, uno forse pensa che la cosa migliore è dirgli che la Typhon ha ucciso Gabe. Typhon killed Gabe. I have proof. What proof? I stole it from Diane. E-mails and documents proving there was a second explosion the night Gabe died. To cover something up, Jed. Some secret they buried. I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Not ever. I know what they're hiding. Sapevi tutto? Sapevi tutto? You're telling me you knew that Typhon's crooked? This whole time? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Tell me. I'll do one better. I'll show you. There, up ahead. Where are we? Middle of nowhere. About two clicks that way is the mining site where you search for Ethan. Five clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Jeff. Why are you sad? e qua arriva la batosta ragazzi perché adesso io lo sapevo già chiaramente però adesso fa ancora più male perché c'è una cosa che non penso ti aspetteresti mai perché pure sto personaggio te lo fanno amare te lo fanno piacere e ti fai una certa idea di lui hai sempre saputo che è stato un eroe quando arriva sto momento ragazzi fa male i tried to talk you out of it scare you off i was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick but you were relentless won't leave damn well enough alone you don't have to do this I do 12 years ago I made a mistake the kind of thing that you can't undo but Typhon made me a deal a way to save my town give my boy a normal life I never wanted Gabe to get hurt go to hell stop sto momento è terribile ragazzi perché vi ripeto cioè secondo me uno non se l'aspetterebbe e quindi cadi dalle nuvole letteralmente e quindi nel 73% dei casi Pike lasciato andare Alex dopo che lei l'ho liberato dalla paura la maggior parte della gente ha dato la rosa Steph anche io ho fatto parte della maggioranza la prima volta stavolta abbiamo fatto parte del 30% nel 31% non ci siamo seduti al falò nel 73% non ci siamo seduti sul divano nel 31% chiaramente Steph non si è vista con Alex in terrazza Steph non si è vista con Alex in terrazza chiaramente Ryan e Alex hanno fantasticato su suo futuro lavoro al Black Lantern nel 20% Ryan e Alex si sono baciati chiaramente nel 50% nel 50% Alex e Charlotte hanno condizionato un momento agrodulici al festival Alex non ha visto Riley la fermata esatto mi son mi son proprio dimenticata ragazzi di andare da lei alla fermata Tony comunque nella maggior parte dei casi a quanto pare abbiamo fatto parte della minoranza che ha ballato con Daki ragazzi per poi permettergli di andare al festival quindi molte persone evidentemente non sono arrivate fino a Black Lantern nel 76 abbiamo aiutato l'uomo ad indovinare il numero di caramelle gommose Alex non ha parlato con l'acquirente del designer Alex non ha aiutato i due amici a confessare i loro sentimenti cazzo quelli che si piacevano vabbè dopo sta batossa ragazzi andiamo ad iniziare il nuovo e credo proprio sia ultimo capitolo che si intitola Lato B ok qui è come se le fosse tornata dove era stata appunto l'ultima volta prima di andare a Heaven Springs chiaramente ci fanno vedere che ha la stessa felpa ragazzi di quando è caduta chiaramente nella voragine dopo che Jade l'ha sparato quindi questo già dovrebbe farci capire qualcosina io direi il significato di casa perché avrei dovuto sbagliarmi scusa si sbaglio si sbaglio è chiaro ragazzi che quello che sta accadendo è tutto nella sua testa ovviamente quindi guardiamoci un secondino intorno è una rappresentazione di te tutto qua quindi foto di famiglia c'è Gabe suppongo esatto perché appartengono a te è il tuo vissuto telefono per caso il paziente è scomparsa graffiava sempre alla porta cercando di uscire ma adesso abbiamo asportato gli artigli quindi non è più in grado di difendersi però mi è normale ma ho avuto problemi comportamentali in passato Alex Chen è appena tornata qui a Helping Hands capiamo benissimo ragazzi che è tutto c'è nella sua testa appunto il nostro fascicolo 53322 53322 chissà se non mi ricordo se ci serve ricordarlo il numero la domanda sorge spontanea ragazzi Jed ha parlato di uno sbaglio uno sbaglio commesso 12 anni prima uno sbaglio reversibile ma posso prenderla la foto ah no posso prendere st'affare boh la foto sì ok ok sicuramente a qualcosa servirà chiaro quella un attimo fa non c'era vediamo cosa c'è ok bussiamo sto cazzo come è possibile 53322 deve essere quella la combinazione chiaramente ce l'abbiamo già Alex è inutile che ti alzi forza quindi 5 3 3 2 2 era lei chiaramente ripara ah ci abbiamo il pirullino gli manca infatti un pirullino ottimo suoniamola suoniamola No shit E infatti ragazzi eccoci qua La caduta non ci ha ucciso Però Io temo che Un trauma cranico Qualcosa del genere ce lo avrà Ah ecco perché la caduta non ci ha ucciso Perché siamo rimasti appesi Oh Ai costole rotte sicuro Porca miseria Minchia raga L'altezza è tanta eh Non so quanto reggerà ancora sto vecchio pezzo di legno Aggrappati Alex Oh cazzo La vedo male La vedo male Malissimo Se non ci ha ucciso la prima caduta In effetti Stiamo di nuovo qua Cazzarola oh Pss Mi lasciate libero Gave You're dead So? Lots of people are dead Alex Most people Where are we I wanna say A hospital Dr. Mendez To intensive care Dr. Mendez To intensive care Yep Definitely a hospital Gabe Okay Here's what I do know You are ten I am fourteen Our mother is sick So is our father But it's a different kind of sickness 10 anni 14 anni Minchia Piccolissimi Ow Gabe Why I didn't do anything Stop Both of you Dad Behave Alex Go check on your mother Okay Erano Quindi entrambi molto piccoli E A quanto pare La madre purtroppo ragazzi Si era ammalata Chiaramente Gabe Alex I need you to listen very carefully We got some scary news today And I'm going to be spending some time at the hospital What? Mom Are you okay? Hush now It's going to be okay Do you understand me? Things will be Different For a little while But I'm going to be okay Brutte notizie Chiaramente Evidentemente Avevano Scoperto Insomma Questa malattia Ed era stata costretta A stare in ospedale Però comunque Ripeto Loro erano molto piccoli E Sono situazioni Grandi Ragazzi Che Non sono facili Per gli adulti E Sono Incomprensibili E difficili Per chi è più piccolo Quindi Non oso immaginare In ogni caso Ragazzi Allora Io direi Che quest'oggi Possiamo fermarci qui È successo Quello che è successo Io direi che Veramente poche cose Da dire a riguardo Io sono Curiosissima Di sapere Qual è stata La vostra reazione Ragazzi Quando Jed ha fatto Quello che ha fatto Quindi Mi raccomando Lasciatemi Le vostre esperienze Qua sotto In commento Questo video Termina qui Grazie a tutti Un bacione Vi abbraccio A tutti i ragazzi Da giocherina Ciao 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 Ciao